Se qualcuno degli amici giornalisti vuole salire con la telecamera a inquadrare, perché facciamo una scommessa, stasera i telegiornali non li faranno vedere in televisione, perché sarebbe troppo pericoloso far vedere una Sicilia che reagisce con orgoglio. Più facile è parlare in Sicilia quando ci sono disastri, problemi, per carità, i problemi non mancano, ma non sono bello da vedere comunque, perché se non mi vedete qui, l'abbiamo detto, l'anno scorso di questi tempi non c'era governo, abbiamo preso alcuni impegni, uno, cominciare a occuparci di lavoro e quindi smontare quella schifezza della legge Fornero pezzo per pezzo, abbiamo cominciato, quota 100, prima in piazza Monreale ho abbracciato tante donne e tanti uomini che mi hanno detto grazie, mi avete restituito due, tre, quattro, cinque anni di vita e finalmente posso avere indietro quello che è mia e soprattutto al posto di questi sessantenni cominceranno a lavorare dei ventenni che invece di scappare alla Sicilia potranno grazie a tutti